Stiamo aspettando tutti quanti ansiosi, già abbiamo visto anche troppo comunque, ve lo posso dire, perché già una Cecilia Rodriguez, un Francesco Uomini e Donne, e qui stanno sudando per l'attesa di un'altra donniciola. Ok, nell'attesa io voglio intrattenervi 5 minuti, come mi è stato dato, 5 minuti, bisogna essere legi a dovere e rispettosi. Allora, io ho bisogno per questo effetto di mentalismo, ragazzi, veramente, lo propongo per la prima volta qui, di cui mi ci tengo realmente che qualcuno, se vuole poi riprendere, rivederselo con il rewind, come suol dire, torna indietro. Ok, intanto io mi prese sono Magic Boy di YouTube, sono un ragazzo che si cimenta a fare mentalismo, e chissà che accada qualcosa con questa giornata, perché è una giornata meravigliosa, veramente di fotografi, di tutto e di più. Ok, allora, prima persona che voglio prendere a caso, io faccio così con il dito, ok, se rimanevo così fermo ho chiamato l'ambulanza, allora, io muoverò come il faro, ok, così, no, non sento niente, vado a caso. Allora, chi guarda, chi guarda, lui, tu, tu, figliolo, vieni sul palco, vieni sul palco, e facciamo un applauso a questo ragazzo che fa concorrento il nostro Francesco, al nostro figlio medone perché è un bel tosato, ragazzi. Allora, come dirà il bel giantonacci, questo sono io, ok, vabbè, no, questo è giusto il mio. Però, sappi una cosa, quello che tu vedrai, lo vedrai qui, con il tuo io, giusto? Ora, tu stesso, con il dito, devi indicare una persona che vuoi tu, però, aspetta, ti do il microfono, ok? Non me lo fa sto lì, e devi dire, voglio lui, e me lo indichi chiunque sia, che stia, chiunque vuoi. Ok, ok, come si chiama il nostro amico? Simone, Simone, Simone. Una domandina, siete amici? Per la pelle, per il cuore, per il pelato, per tutto, ok. Allora, abbiamo Simone e... Cristian. Cristian e Simone. I Simone faranno qualcosa di incredibile. Io metterò il secondo piano perché sarete voi il protagonista, ok? Ci proviamo, giusto, bisogna provarci le cose. Abbiamo ancora tre minuti, ok? Allora, Cristian, Simone, non scambiatevi, eh. Simone che... Allora, guardate, senta me. Mazzo di carte regolare. Non si sente, Stefano. No, mi porti. Non importa. Tutti diversi. Mazzo di carte regolare. Allora, ok? Qui? Ok, guardate la carta. La state vedendo tutti? State vedendo... Lui ha detto stop. Questo è importante perché i maghi non fanno così. Ok. Lui ha detto stop qui. Chiudiamo il tutto. Tutto chiuso. Siamo d'accordo in questo? È tutto chiuso. Il mazo non ce ne prega più niente. Ora, io sfido chiunque a sapere la carta, giusto? Se ne ricordo. Perché tu hai fermato e loro sono testimoni purari che hanno visto tutti la carta, giusto? Allora, ora vi conterò uno, due, tre. Ok? Voi non dovete ancora fare niente. Io prendo le carte. Aspettato che purtroppo non c'è un marchio schermo che fa vedere se è bellissima. E io provo ad andare a intuito. Questo. Ma, ho indovinato se sono voi. Allora, io qui ho una carta, ok? Allora, adesso al mio tre, voi in coro, voi tutti in coro, dite la carta. La sapete? Come fai giardino? Un brazzo. Ok. Uno, due, tre. Dieci di fiori. Dieci di fiori dove mi hanno fermato loro. 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 Io non potrei mai sapere dove, chiaramente, dicevate. Stop. Ma adesso facciamo, avendo ancora più i due minuti, facciamo una cosa ancora più veloce e interessante. Tieni qui. Guarda. Prendiamo tutte le carte, ok? Allora. Allora, ecco la fassicola che si cimenta. Le carte le buttate, visto che le buttate. Ma sapete come farebbe un gioco albano? Così. E' abeso in te. Così farebbe, non sai? Ebbene, non ti dico come farebbe loro Baglioni. No, Baglioni già un po' invecchiato. No, ma quando era giovane ancora, cantava tu come stai. Ma, tieni conto che... Eh, sì, va bene. E sei già un minuto, eh? Però, aspetta, aspetta. Allora, attenzione, ragazzi. Guardate, le carte le ho messe a punto, giusto? Mescolo le carte. Sparate attenti, perché adesso verrà un altro miracolo. La signora, la signora, bellissima. Signora, mi dica stop, è solamente da là. Quando vuole lei mi dici stop. Prima o seconda? Questa? La guarda, signora. Vi sta bene? Io non posso sapere. È solo nella sua mente. Mi guardi bene. Uno, due, tre. Quattro, cinque, sei. Sette, otto, nove. Dieci, set, donne. Rai. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Ho un due, un tre, signora. Mi guardi, è vero? Conferma, signora. Aiuti. Prima, signora. Due, tre. Due, tre. Due, tre. Un tre, signora. Attenzione, attenzione. Seme, seme, seme. Un quadro, un quadro, un fiori. Un quadro, un fiori. Un quadro, un fiori. Un quadro, un fiori, signora. Un quadro, un quadro, un fiori. Un fiori, signora. E signori, questo è mentalismo reale. Mentalismo oculare. ha a che fare con lo sguardo perché io non potevo sapere dove la signora ed è un mazzo regolare. Giusto, ragazzi? Voi ti chiedono quanti se mescolano i mazzi di carta. Mescola, mescola bene. Adesso guardate che lui sta mescolando i mazzi di carta. Come deve inghignare? Questo si diceva. Ok, va bene. E giusto che mescolano i mazzi di carta. Giusto si guarda qui. Sai, conoscevi l'esempio nazico? Come fai a conoscere? Non lo so. Ok, hai mescolato le carte? Tutto è bene? Ok, adesso, ascoltami bene. Devi fare il gioco a lui. e tu sarai un prestigiatore, ok? Non ci credi? Allora, tagliate la cosa. Ok, mi dico così. Cioè, faccio più a star così? Prendi questa carta, questa carta. Tu hai fatto il miscolato non può sapere di carta perché tu mi sono... Ah, boh, questa cosa... Io non so, non so niente. Fai vedere la carta, per favore. Fai vedere la carta. Te la vedo da due di vista? Ok. Adesso fai mettere la carta in dormanzia. In dormanzia. Sei d'accordo, Chris e Simone che non può saperla? Ah, boh, no, che siete stimone tu stessa. è impossibile perché tu gli hai dato la carta a lui l'hai messa dentro l'hai tagliato l'hai mescolato tu. Guardami bene, eh. Uno, due, tre. Uno, due, tre. No, no, livi. Perché non livi? Perché il livide non si ingrandisce? Hai l'occhio, c'è un uomo ma non mi spegne. Aspetta. Uno, due, tre. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, sette, donna, re. Uno, due, tre. O un due, o un tre. No. Uno, due, tre. Uno, adesso un due. Può essere... Può essere... Fermo, fermo, fermo. Può riquadri, picchi e fiori. Può riquadri, picchi e fiori. O un picco o un fiori può essere... Non mi dà niente. Picchi e fiori. Picchi e fiori. Fiori, assoli e fiori. Incredibile. Incredibile, ragazzi. Grande! È impossibile questo effetto. È impossibile. E adesso ti dico una cosa. Questo sono io tutta la mia vita per cercare di capire chi era questo, tu o no, questo. Grazie di cuore a tutti quanti. Adesso aspettiamo nuove novità che arriveranno, ragazzi. Perché ce ne saranno. la pazienza verrà premiata, come suol dire. Io accedo tutto. Aspetto Emanuele. Emanuele, dove sei Emanuele? E' una signora che fa così. E' una vera, è traganà, traganà. Eccolo qua, eccolo qua. Nostra carissima Emanuele. E anche grazie a lui che abbiamo questa bellissima manifestazione. Oltre al nostro carissimo colui che sta nei cieli, che conoscete tutti. E lo ringraziamo pienamente di cuore. Emanuele, che faccio? Io cedo il microfono. perché potrei fare molto ma purtroppo non c'è. La situazione è ancora idonea che spero che si creerà comunque col tempo. Tanto vantemente le macchine, ragazzi, perché ci sono delle macchine. Forse è arrivato qualcuno. È arrivato la red canziani? Può essere qualcuno? No, la red canziani. Ok, ciao. La red canziani. Forse la red canziani. No? Non c'è le prime. Emanuele, c'è una pelle di pensionare, ragazzi. Come no? Dai, non amo il cu, però. Non è mezzo. No mezzo. Grazie a tutti.